bene è completamente concentrato su ogni suo movimento sta lavorando meticolosamente al suo nuovo stile si capisce che oggi ha davvero voglia di vincere ciò che vuole è prevalere e conquistare ma non può andare avanti credo che il ginocchio gli faccia male sembra che sì proprio così non andrà da nessuna parte oggi a causa di questo dolore costante chiuso in casa ancora una volta per non aver usato indiba ottimo no no pretty woman di nuovo